ciao io sono johnny95 e oggi troviamo su dei d'olimpo allora premettiamo che era da un po che non portavo episodi su dei d'olimpo ho deciso di riportarci un episodio perché ho visto che comunque dei d'olimpo è molto più cioè abbastanza visualizzato quindi se mi fate sapere che questa serie vi può interessare questo gioco da vedere sul canale io ve lo porto anche molto volentieri ma dipende questo vi ripeto dipende da voi io vi sto registrando questo video come secondo video della giornata questa realtà solo in più perché diciamo non lo tengo conto come delle serie principali che sto portando sul canale ma vi porto qualche video extra in più nel caso ci fosse qualche giorno in cui non usciranno video allora come sono messo e io comunque spero che quello che vi porto vi continua il piacere che il mio impegno lo stiate notando che lo sto facendo per voi allora praticamente adesso ho cinque dei ne ho cinque adesso se non andiamo non mi ricordo esattamente ne abbiamo cinque se abbiamo cinque dei o zeus pose donne atena afrodite e ares per ora ho i primi cinque dei che ho sbloccato qua cielo il 46 al 33 al 38 al 40 e al 36 sono abbastanza livellati ma ci vuole ancora molto per portare il suo e anche al massimo soprattutto perché se andiamo a vedere le loro abilità adesso la sua abilità tipo quelle di afrodite costa 6 milioni sbloccarla e quindi costa parecchio troppo forse anche tanto quindi niente quindi questo sono i miei progressi ho portato tutto al livello 8 adesso se clicchiamo tutte le 40 costruzioni abbiamo tutto all'8 a parte le cose di zeus che ce l'ho appena portate al 9 quindi sto livellando tutto tutto quanto a pari passo ogni e ogni ogni cosa e le difese sono due difese per ogni tipo di difesa due torri alchimede due balista per ora ne tengo due poi dopo quando aprirò il villaggio se non ci siano più costruzioni da fare nuove metterò delle metterò le stesse difese il numero maggiore ma sempre con simmetria di modo ad aumentare ogni singola difesa allora poi ho qualche edificio che produce gemme qualche edificio che produce pietre qualche che produce oro e niente questo è il mio progresso abbiamo questo è il mio villaggio il mio villaggio dopo tre due tre anni che non ci portavo episodi ho deciso di giocarci un pochino e di vedere se questa serie vi può interessare perché uno di voi me l'ha chiesto mi ha chiesto di portarci altri episodi quindi io esaudisco le vostre desideri e vi porto altri episodi almeno un altro poi vediamo com'è come la gestite voi e vedo se portare continuare a portare episodi se mi interessa invece ho preso l'academia d'eroe che ho portato al livello 8 e 13 8 e 13 perché vabbè 8 perché l'edificio l'ho portato a 5 per ogni caratteristica salute forza e distruggi che non so cosa sia però ho cercato di portarlo in modo equo ma costa parecchio livellarlo quindi non so se come livellarlo perché ci vuolebbe tanto e non so neanche se porterò avanti che se io vi do un'altra possibilità a questo gioco se vi interessa ve lo porto intanto andiamo a fare battaglie ah intanto vi faccio vedere che abbiamo anche la città dei inferi che sta qua e praticamente qua abbiamo abbiamo le monete d'argento e le pietre le pietre ombre non so come come chiamarle e come eroi ho cerbero caronte le pietre e ade per ora poi dopo andrò andrò anche a sbloccare persephone e tutti gli altri più in piano sempre se questo gioco mi interessa se non mi interessa è inutile portarlo adesso andiamo nel villaggio principale questo qua e andiamo a fare delle battaglie ehm normali neanche facili normali vediamo vediamo allora vediamo ne facciamo una normale vediamo come va e poi dopo se è troppo difficile facciamo qualche facile e ci semplifichiamo il gameplay allora mettiamo Zeus mettiamo Poseidone Ares io non sono un esperto di questo gioco quindi non prendete il mio gameplay come la cosa e non sei bravo e non vabbè calmi allora io devo portare tutti gli eroi da qua ok perfetto attivate un po' di power up distruggete la torre perfetto bravi adesso userei l'abilità di Ares così distruggiamo un po' di nemici ok perfetto andiamo qua colpisci con la torre colpisci con la torre perfetto così diventa nostra ok andiamo li sposto tutti e le porto e tanto non c'è il tempo quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo li porto qua così vado a distruggere l'ultima torre ah mi è morto Ares mi è morto Ares e mi è morta anche l'altra è difficile perché è difficile eh non ce la faccio era impossibile ce l'ha troppa roba vedi perché io avevo abbonato il gioco perché non è equilibrato non c'è tutte le cose equilibrate soprattutto non i costi dei miglioramenti sono esorbitanti cioè sono miglioramenti istantanei questo sì ma sono dei costi veramente alti tipo 6 milioni di oro ma quando ci arrivo a 6 milioni di oro mai o mai nella vita cioè devo giocare per mesi per arrivare a quei 6 milioni io quindi non so che fare quindi ditemi voi se questa cosa vi interessa se non scrivete niente deduco che non vi interessa quindi fatemi sapere la vostra opinione adesso andiamo a fare un altro attacco andiamo qua allora abbiamo abbiamo solo questo vabbè allora attacchiamo qua attacchiamo qua attacca qua usiamo tutte le abilità attacca qua usiamo tutte le abilità fine ok facciamone un'altra in in normale facciamola in normale stavolta allora c'è un edificio lì in mezzo e basta basta c'è solo quello questo qua ha costruito solo l'edificio l'edificio del del sole non so come non ce l'ho questo eroe quindi non so come chiamarlo boh io punterei di qua direttamente ok ho usato un po' di abilità ok vai vai distruggi tutto distruggi mirate l'edificio mirate quell'edificio centrale vai 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 perfetto ok fine abbiamo fatto i nostri attacchi potrei ora fare anche un altro attacco perchè ho ancora mille di nettare e potrei farlo solo che per non dilungare troppo il video non fate un altro attacco poi mi sapete dire dopo voi se vi interessa vedere altri episodi di questa serie se vi interessano video più lunghi se come vi interessano datemi voi la vostra opinione io aspetto solo le vostre decisioni tanto sapete che qua ho migliorato un sacco di di cose se volete entrare nell'alleanza anche se io comunque non è che ci tengo ci tengo dietro l'alleanza solamente l'ho creata ed è entrata un po' di gente ora siamo in 92 perchè ho buttato fuori della gente sennò saremmo in 100 ho visto qualche inattivo quindi ho detto vabbè lo buttiamo fuori così entra della gente attiva e l'alleanza diventa più attiva e quindi c'è più gente quindi va bene io spero che questo video vi sia piaciuto sperando che questa serie vi possa interessare io vi porterei altri episodi se vi interessa se no vi porto altro posso portarvi un'altra serie a parte come secondo video della giornata per questo periodo dipende quanto dura la serie ma penso che durerà abbastanza un po' come Cooking Craze che durerà abbastanza anche quella quindi non so se portarla in contemporanea come secondo video oppure portarvi finire prima Cooking Craze e poi portarvi questa nuova serie ditemi anche questo se vi interessa fatemi sapere anche se vi interessa questa cosa se vi interessa questo gioco io non c'è che dire che dirvi di lasciare un bel like così mi supportate mi aiutate un commento per darmi la vostra attenzione iscrivetevi al canale se hai nuovi condividete giro e noi ci vediamo nel prossimo video a presto